Cari amici Fanta Alenatori, bentornati da Carmi Special e siamo con i consigli al Fanta Calcio per la 27esima giornata Come vi è andata la scorsa o anche il recupero? Raccontatemi e sfogatevi qua sotto nei commenti Oltre ovviamente a lasciare un bel like, io mi diverto tantissimo a leggere le vostre avventure e disavventure Quindi raccontatemi tutto Ovviamente come detto lasciate un bel like e iscrivetevi perché alcuni di voi vedo che guardano i video ma non sono ancora iscritti E a proposito di iscrizioni, entro domani, attenzione entro domani Si può ancora partecipare al giochino che stiamo facendo su Lega e Survivor Soccer È semplicissimo ragazzi, io ho partecipato già alla Lega pubblica e ho perso perché Luvumbo ha segnato all'ultimo Avevo scelto il Napoli, stava vincendo invece col gol di Luvumbo all'ultimo sono stato eliminato dalla Lega pubblica Mannaggia a me, mannaggia che ho scelto il Napoli Comunque basta scegliere una squadra ragazzi, ok? Le regole sono semplicissime, c'è l'applicazione Basta scegliere una squadra, se vince passate il turno, se pareggia o perde come ha fatto ad esempio il Napoli ha pareggiato Si viene eliminati, ok? Quindi semplicissimo, vediamo chi sopravviverà fino alla fine C'è l'applicazione, come detto vi registrate in un attimo un consiglio che vi do per la registrazione Quando magari create la password, non mettete magari forse il punto alla fine, può essere che non ve l'accetta Mettete un punto esclamativo, mettete un altro simbolo, ok? Nella registrazione A livello, il nostro torneo, quello diciamo della nostra Lega, dove c'è anche un bel regalino finale Si chiama Carmi Survivor, per trovarlo, per registrarsi basta andare su Unisciti a un torneo Sia da applicazione, sia dal sito, io vi lascio il link qua sotto E andare a mettere come nome torneo Carmi Survivor Carmi Spazio Survivor Attenzione che da cellulare a volte vi mette lo spazio alla fine Quindi assicuratevi che non ci sia uno spazio alla fine, che il maiuscolo e il minuscolo siano scritti bene E tre soldi come parola d'ordine, con la T grande, come vedete, senza spazio alla fine Quindi mi raccomando, occhio a questa cosa Una volta dentro, basta andare a selezionare una delle squadre per la 27 team si è maggiornata Tra l'altro ci sono tante partite un po' equilibrate, quindi occhio Scegliete con cura, vi ricordo che la squadra che andate a selezionare Non potete poi prenderla, ok? Non potete scegliere la squadra che avete selezionato Quindi se prendete ad esempio adesso l'Inter contro il Genoa Sì, passate il turno, però poi nelle prossime giornate non potrete prendere più l'Inter Quindi valutate voi chi andare a prendere in questa giornata, ok? Andiamo a vedere gli indici di schierabilità Quindi vi lascio in descrizione, come detto, siamo più di 200 partecipanti Vediamo di arrivare almeno a 500, ragazzi, come detto, è gratuito partecipare Giochiamo insieme, vediamo chi sopravviverà fino alla fine Parte domani, quindi veloci, veloci, veloci Parte di venerdì, in questa 27esima giornata Come vedete, in questo momento che sto registrando Cioè ancora un giorno e 6 ore, 49 minuti Quindi mi raccomando, partecipate, va bene? Andiamo a vedere gli indici di schierabilità Si parte con Lazio-Milano, quindi subito col botto di venerdì sera Primo marzo Arbitra Di Bello con 3,56 a munizione a partita Ok rigori, 0,56 rigori a partita Ho messo come prostico 1-2 Anche se è una partita un po' particolare, bella equilibrata Vedo però favorito, come detto, il Milan Che potrebbe insediare sulle fasce la Lazio Quindi Lazaro, infatti, e Marusic li ho messi negli sconsigliati Per questo motivo Consigliati Felipe Anderson e Loftusik Loftusik per i suoi inserimenti Ormai da incursore ed invasore È ormai un attaccante quasi aggiunto Mentre Felipe Anderson potrebbe magari sfruttare la corsia Sguarnita a volte magari da Teo Hernandez Per quello più che altro Ben Nasser e Ciukwese Nomi scommesse un po' più esotici Molto esotici, da dire la verità Altri indici buoni sono per il reparto offensivo Sia della Lazio che del Milan Chiaramente Leao e Giroud su tutti Ma anche Pulisic, ragazzi Tra i centrocampisti con indice più alto Teo Hernandez lo andrei a schierare pure Non lo lasciamo fuori Forse, ecco, magari con Render, seguendo sì Potete valutare in base alle alternative Anche seguendo sì, ultimamente sta facendo abbastanza bene Poi, tra i possibili subentranti Il giocatore in ballottaggio Isaac Senema con coperturelle che, soprattutto numerose Dovete avere proprio alternative peggiori Lo stesso vale un po' per Ocafor Castelliano e Sevesino Quindi occhio qui alla copertura Vediamo se recupera Tomori, Calulu Stanno un po' tornando Però assicuratevi di avere un buon numero di difensori E non è detto che comunque giocheranno In ogni caso abbiamo la formazione ufficiale Essendo la prima partita Quindi sfruttate, casomai, questa cosa Passiamo a Udinese Salernitana Qui ho messo 1-0 come pronostico Diciamo che ero un po' indeciso sul numero di gol Che potrebbero esserci in questa sfida Perché? Perché la Salernitana, devo dire, col cambio allenatore Secondo me è tornata un po' indietro Con Inzaghi nelle ultime partite Che appunto ha allenato Stava facendo, secondo me, discretamente Qualche segnale lo stava dando Con Liberani non mi sta piacendo completamente Luka e Samarzic consigliati Arbitra Mancaniello Con 3,86 ammunizione a partita E 0,43 rigori a partita Per quanto riguarda i giocatori più schierabili Porta Okoye e in difesa Perez Ma anche Zivuè e Zemura Comunque gli esterni si possono volendo provare A centrocampo, già girato Samarzic e Luka Come detto da loro mi aspetto un bonus Ci può stare Pereira Occhio però perché è un po' in dubbio Se non sbaglio Quindi potrebbe giocare dall'inizio Potrebbe giocare Tao Ven Quindi è un po' in ballottaggio Però se le alternative sono giocatori poco offensivi Ci sta provare Pereira E Lovric invece qui va valutato In base a chi altri avete Perché comunque è meno offensivo Potrebbe comunque portare un bonus Però valutate qui in base alle alternative Idem per Candreva Perché è l'unico forse schierabile Per la Salernitana Insieme a Westman Che ho messo come scommessa un po' esotica Però su Candreva Potete anche valutare In base alla vostra sensazione sulla partita Perché come detto Avendo io sensazione sull'1-0 Potrei essere tentato di scegliere qualcun altro Diciamo che comunque Non gli ho messo un indice basso Proprio perché non è una partita proibitiva Non sta giocando contro l'Inter per dire Quindi ci può stare Sconsigliati invece i difensori della Salernitana Pasalidis e Pellegrino Mi aspetto un'insufficienza da parte loro Vedremo come giocherà invece Manolas e Bradaric Questi più da lega numerosa Così come Castanus eventualmente E D.A. D.A. va messo casomai con copertura Non va aspettato per forza una buona prestazione Chiaramente se le alternative sono giocatori ancora peggiori Potete valutare di provarlo Così come per Tauven Ok Altri nomi? Bachina? C'è una forse Però ragazzi Spero abbiate di meglio Sia per lui che Pierozzi Spero abbiate giocatori con titolarità maggiore Ok Passiamo alla prossima Monza-Roma Ho messo qui 1-3 come pronostico Quindi mi aspetto una partita molto vivace Magari con meno distacco tra le due squadre Perché il Monza in casa non è facile da battere Soprattutto viene da una striscia come vedete Molto positiva Anche la Roma con De Rossi è migliorata molto Piccinini con 3,78 ammunizione a partita 0,22 rigori A partita Gli indici più alti sono per la Roma Svilar Mancini ma torna anche Smolling E se lo avete aspettato ci può stare Provarlo già in questa Pellegrini e Delcerrao Li ho messi nei consigliati Da loro mi aspetto una buona prestazione Possibili bonus Chiaramente Di Bara e Lukaku Se li avete Difficilmente li potete panchinare Sconsigliati Carboni ed Ambrosio Perché i braccetti Credo possano andare Un po' in difficoltà In questa partita Angeligno e Azmun Come scommesse Se li avete Ci potete fare un besterino Soprattutto su Angeligno Che dovrebbe giocare dall'inizio Azmun magari è più complicato Perché potrebbe subentrare Dall'altra parte invece Colpani Pessina Forse i nomi più interessanti In lega molto numerosa Da Nimota Però qui spero abbiate Magari di meglio Ok Altri possibili nomi Da poter provare Casdor per Spinazzola Se avete una buona copertura Mentre per altri I nomi Forse mi viene in mente Baldanzi Già c'è dato chiaramente Alzmun E Awar Però qua ragazzi Occhio Perché potreste Diciamo Potrebbero non prendere il voto Quindi non abbiamo garanzie Sul voto Mi raccomando Occhio alla copertura Passiamo A Torino Fiorentina Questa è una delle più complicate Da analizzare Stagiornata Ci sono sia tante scommesse Perché ci sono diversi big match Però anche diverse partite Anche equilibrate Arbitra Marchetti Con 2,57 A modificazione Partita Quindi sotto la media E 0,29 Rigori a partita Ho messo come pronostico 1-1 Perché mi aspetto Una partita Equilibrata Dove ci saranno Magari diverse occasioni Ma sventate Magari dalle due difese E dai due portieri Tant'è che gli indici Tant'è che gli indici dei portieri Gli ordinati buoni Nonostante siano due squadre Che a livello offensivo Ultimamente stanno creando Diverse occasioni Tant'è che gli indici Degli attaccanti Non sono infatti Bassi Buonaventura Se avete alternative Valide Magari puntate Su altro Ci sono diversi giocatori In ballottaggio Come Icone con Sottil Mandragora Duncan Lì Mediana Valutate qui In base alla copertura Ma non mi aspetto Per forza bonus Per il resto Ragazzi Penso abbiate Di meglio Ecco Quindi possiamo forse Passare avanti Sì Ilic Ricci Anche questi Magari in Lega Numerosa Come ultimo nome O Sanabria Allo stesso discorso Ci può stare Se l'alternativa Ancora Una partita più complicata Di questa Va bene Passiamo a Verona Sassuolo Partita Un po' pazza questa Perché Qui si possono puntare Tante scommesse E qualcuno Ha già notato Qualcosa Di strano Allora Arbitra innanzitutto Maresca 5.55 Ammonizione a partita Quindi occhio E 0.36 Rigori a partita Come pronostico Ho messo 2-1 Per il Verona Perché secondo me Il Verona Non può farsi Scappare Queste occasioni Per fare Tre punti Il Sassuolo Forse Rivede Berardi in campo Però viene da una Batosta Contro il Napoli Molto scottante Tre gol presi Anche con l'Empoli Altri sei Con Con il Napoli Insomma La difesa Veramente per ora Non c'è Regalano pallone Gli avversari Non voglio citare Troppi nomi Ma ne parleremo Tra poco Di qualcuno Perché Innanzitutto consigliate Ho messo Noslin e Suslov Se avete preso Questi giocatori Ad esempio Alla riparazione In questa È la partita È la partita In cui provare Questo tipo Di nomi Lo stesso vale Per Svidersky Che ho messo Nelle scommesse Magari invece Si possono evitare Erlich Boloca Che possono rischiare Il cartellino Maresca Come abbiamo visto Ha statistiche Sopra la media Perché C'è Qualcuno Nelle scommesse Perché Chiaramente Io Adesso ho pubblicato Proprio un post In merito Sui social Seguitemi a proposito Sia su Instagram Che TikTok E Evidenziando Le prestazioni Che ha fatto La Fantamedia Ragazzi Che vedevo di Vi faccio notare Una cosa Guardate Qui Quando Praticamente Il Diciamo Alla 24esima Non ha giocato Il Sassuolo Mi pare Abbia pareggiato Per dire Quindi Le assenze Che ha fatto Vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Non mi voglio accanire Troppo Ragazzi Ho già fatto un post E mi sento già in colpa Per quello Ma lo metto Nelle scommesse Perché Perché Se c'è una giornata In cui Devo Metterlo Nelle scommesse È questa Perché Gli ho fatto il post Gli ho bufata Alla grande Calcio d'angolo Colpo di testa Gol di Tre soldi Io Ho paura Signori Casomai dovesse accadere Questo sarebbe Qualcosa di clamoroso Quindi Praticamente Gli ho bufata Alla grande Con quel post Però Vediamo Vediamo Detto ciò Passiamo Le cose serie Per quanto riguarda Invece Altri nomi da poter provare Folorushum Duda Però qui in base alle alternative E qualche difensore Magari Lato Lato Verona C'è Doighe Che è l'ex Però Spero sinceramente Abbiate di meglio Montipo per il modificatore Ci può anche Stare Altri nomi da poter provare Lasovic con copertura Lo stesso Volpato Se l'avete preso Come scommessina Mitrovic Ha giocato Scorso Facendo qualche Anche buona giocata Ma gli hanno dato Insufficienza Vediamo se gli daranno Ancora Spazio Sia lui Che a Vinacre E per il resto Ragazzi Spero abbiate Veramente di meglio Perché qua C'è poca roba Però per i titolari Come detto Potete fare Qualche scommessa Nell'attacco Del Sassuolo Chiaramente Quello con l'inice Più alto E Berardi Perché Torna lui Torna Chiaramente anche Come rigorista Mentre L'Auriente Potrebbe avere Ancora qualche chance Ce l'ha in ogni partita Però spreca poi Con il tiro Mentre Pinamundi E comunque In una stagione Positiva Riesce a sfruttare Quelle occasioni Che ha a parte Qualche rigore Sbagliato Diciamo così Passiamo A Empoli Cagliari Con Rapuano Con 4.22 Modellazione a partita 0.56 Rigori A partita Come pronostico Messo 2 a 1 Mi aspetto una partita Equilibrata Ragazzi Con Diciamo L'Empoli Favorito Perché con Nicola Non sta sbagliando Vedete In una partita Ha vinto Anche con Nel Sassuolo 3 a 2 Fuori casa Insomma Ha una Strescia positiva Va sottolineata Ho messo nei consigliati Nyang E Lovumbo Da loro Mi aspetto Un'altra Buona prestazione Spero mi abbia De la Toretta Sull'Uvumbo Contro Il Napoli Sconsigliati Invece Gagace E Macumbu Scommesse Gaetano E Dossena Perché Dossena Perché è vero Che è una partita Difficile Visto il rendimento Dell'Empoli Però Su palline attiva L'Empoli Ragazzi Cosa vi avevo detto Anche la scorsa Soffre molto Ha segnato Ferrari E quindi Dossena Su calcio d'angolo Potrebbe dire La sua Occhio Se a lui Mina La Padula Qualcuno di loro Secondo me La mette di testa L'Uperto Chiaramente Indice È molto alto Ragazzi Spero Spero mi abbiate Dato retta A gennaio Quando vi ho detto Di prenderlo Guardate Da quando è arrivato Nicola È qualcosa Di clamoroso In più Anche segnato Vabbè Quella era La ciliegina Sulla torta E più guardate Le ha giocate Tutte Con solo Due ammunizioni Un bacio Al nostro Luperto Il nostro Nuovo Top Di reparto Altri nomi Cambiaghi Lega Numerosa Anche se Non la mette Dentro Nemmeno Con le mani Vediamo Se si sblocca In questa Partita Però Spero Abbiate Magari Qualcuno Più Freddo Poi Come detto In mancanza O lo usate A copertura O lo usate Come terzo Attaccante Lega Numerosa Tra i possibili Subentranti Ma vediamo Se torna Ad avere Minutaggio Ristanio O Viola Zurkowski In forte dubbio Quindi Valutate Attenzione Alla copertura Bastoni Ecco Diciamo Dell'Empoli Credo L'abbiate Ormai Svincolato Però Chi Magari Se lo ritrova Ancora Rosa Potrebbe Adesso Iniziare A giocare E fare Qualcolina Ha già Segnato Appunto La scorsa Giornata Passiamo Alla prossima Frosinone Lecce Allora Qui Sono andato Un po' In difficoltà Sull'analisi Lo ammetto Perché mi veniva 2-0 Per il Frosinone Meglio 1-0 2-0 Qualcosa di questo tipo 2-1 Quindi un po' Equilibrata Ma Tendente per il Frosinone Ho messo 2-0 Perché Credo sia rimasta Qua La sconfitta Con la Juventus E avranno ancora più Cattiveria Arbitra Guida Con 4.33 Munizioni a partita 0.50 Rigori a partita Quindi Occhio Alla Possibilità Dal dischetto Infatti Consigliato Sule E Mazzitelli Se li avete Sule Penso Non ci voglia Granché a schierarlo Ma Mazzitelli Secondo me Potreste avere un po' Di dubbi Io lo proverei Arrui E che dire Nelle scommesse Eviterei Gallo Perché ha il duello Proprio con Sule E a Ramadani Che non sta facendo Che non sta facendo bene Ragazzi Molto discontinuo Con tante insufficienze L'unico forse schierabile Del Lecce O meglio Quello con indice più alto È tipo Uden E in lega numerosa Tipo Un Banda Da un Cristovic O Alquist Però qui Sinceramente dovete avere Proprie alternative Che giocano pure loro Fuori casa Contro una Big Per dire Quindi Valutate Spero abbiate di meglio Ecco Brescianini Nome Più da lega Diciamo Molto numerosa Ok Quindi valutate Se schierarlo O meno Viene dalla scorsa Occhio a Zortea Che non è dato titolare Però comunque Quando gioca Gioca bene Porta bonus Occhio Magari con copertura Ci può stare anche Langerlo nella mischia Gli altri giocatori Invece Di entrambe le squadre Non ve li consiglio Spero abbiate Appunto di meglio Passiamo Ad Atalanta A Bologna Una delle sfide Che Serverò Con più attenzione Arbitra La penna Con 480 Punizione a partita 040 Rigore a partita Perché la Serverò In modo Particolare Perché Dal punto di vista Tattico Voglio osservare Come le due squadre Che hanno Modulo differente Si andranno Un po' Ad incastrare Insomma Voglio vedere Anche le contromisure Che prenderanno Una rispetto all'altra Ho messo 3 a 1 Come pronostico Perché secondo me Brucia tanto A Gasperini E a Atalanta La batossa Che hanno preso Con l'Inter E quindi saranno Un po' Indemoniati In campo Però Tiago E' uno che prepara Bene i match Voglio vedere Se riusciranno A limitare Un po' I danni 3 a 1 Come detto Un po' Il pronostico Arbitra la penna Con Diciamo Statistiche Nella media Lukman E Holman Li ho messi Nei consigliati Da loro Mi aspetto Di nuovo Una buona prestazione Ferguson Messo Nelle scommesse Perché Perché Oggettivamente È un po' Di giornate Che Non porta bonus Le buone prestazioni Le fa sempre Il 6 e mezzo Guardate Se lo porta a casa Praticamente sempre Però insomma Un po' di bonus Fergusoncino Lo possiamo portare Quindi Penso che Potrebbe Essere lui Il Diciamo L'autore del goal Del Bologna Anche Fabian Sta facendo bene C'è l'ex Orsolini E poi ho messo Ture Ebilal Ture Che pur Non essendo titolare A me Non è dispiaciuto Il modo in cui È entrato Contro l'Inter Credo Voglia Diciamo Rendersi Protagonista Diciamo così Ecco Quindi occhio Anche a lui Se lo avete preso Come scommessa Come terzo attaccante Secondo me Ci sa provarlo Zekze Anche lui Con indice alto Così come De Ketelare E Cup Miners Indici molto Molto alti Per loro Un po' più bassi Per Froyer Anche se è un ex Ederson Derun Messo negli Sconsigliati A rischio cartellino Insieme a Kristiansen Che potrebbe Farsi scappare Holm Alle spalle Mentre Miranjuk E Zappacosta Insieme a Pasalic Anche loro Da schierare Pur non essendo Titolari Così come Ebilal Ture Sono scommesse Che si possono Provare Nel lato Bologna Dei non titolari Eviterei Praticamente Tutti Se possibile Con nulla Da attenzionare Diciamo così Passiamo Un'altra Sfiga Sfiga Un'altra Sfiga Interessante Tra Napoli E Juventus Di domenica Sera 4.30 Munizione Partita Per Mariani 0.30 Rigori Quindi Nella media Per quanto riguarda Il pronostico Ero un po' Indeciso Avevo messo 1-1 Perché Penso Possa finire In parità La partita Però poi Dall'analisi Non mi veniva L'1-1 Ragazzi Mi veniva Vittoria Del Napoli Perché la Juventus Sta faticando Tanto Anche contro Il Frosinone È andata In netta difficoltà È riuscita A vincerla Proprio con Lo schema migliore Che ha Ovvero Il calcio d'angolo E quindi Penso che Il Napoli Visto anche Questa Diciamo Questo cambiamento Un po' di rotta Che sta avendo Sta oggettivamente Giocando un po' meglio E potrebbe Avere la meglio Vediamo 1-0 2-0 2-1 Non lo so Però Dall'analisi Mi viene così Consigliato Quara Che ha fatto il devasto Anche lui Insieme a Osimene Nella partita Del recupero Anche se erano Contro il Sassuolo Contro la difesa Del Sassuolo Di Lorenzo Che secondo me Potrebbe Portare bonus Miretti Locatelli Lasciamoli Assolutamente fuori Se possibile Rachmani E Zambanghissa Scommesse Perché Perché ho osservato Un po' Anche dal punto di vista Tattico Determinati movimenti Che stanno facendo In fase di Finalizzazione Azione Diciamo così E Si inseriscono In maniera Più importante Quindi Occhio Anche Anche a loro Per quanto riguarda Altri nomi Con indice buoni Vabbè Vlaovic Non credo Abbiate Così tanti nomi Con indice più alto Da doverlo panchinare Anche secondo me Potrebbe Potrebbe faticare Politano Chiaramente E E Bremere Potrebbe andare Un po' In difficoltà Per questo Non gli ho messo Un indice molto alto Con Con Osime Non sarà facile Anche Rugani Gatti Occhio Ragazzi Alla difesa Della Juve Potrebbe Prendere qualcuno Un'esufficienza Non mi fece Scommessa Tra i possibili Subentranti C'è Milik Da ex Lindstrom E Raspadori Con indice Diciamo Intorno al 6 6.2 Quindi qua Spero Abbiate Sinceramente Di meglio E soprattutto Eventualmente Una copertura Ok Ildiz Forse potrebbe Essere interessante Vediamo però Questo ballottaggio Con Chiesa Chi La spunterà Perché Chiesa Uscito Acciaccato Da Un allenamento Causa Sempre Alexandro Che fa Più danni Della grandine Passiamo All'ultima sfida Di lunedì Sera Tra Inter e Genua Arbitra Iroldi Con 5.67 Ammunizione A partita Quindi Occhio a tanti Giocatori del Genoa Potrebbero Prendere ammunizione E 0.33 Rigori 4 a 0 Un altro 4 a 0 Ma io ce lo metto Ragazzi Dall'analisi Viene questo Potrebbe Fare più gol O anche Anche meno Perché comunque Il Genoa Ultimamente Si Si diventa Molto meglio The Winters Sabelli Evitiamoli Come la peste Ma un po' Tutto il Genoa Ragazzi Tant'è che Gudmundson Che è quello Più schierabile Ha comunque Un indice 6.9 Che non è Altissimo Panchinarlo Ragazzi Cioè Dovete avere Un bel Centrocampo Fatto di nomi Buoni Allora a quel punto Potete valutare Altrimenti Altrimenti Io ho cambiato Io ho cambiato L'indice Ma è comunque Molto alto Il suo Arnautovic Ecco L'ho messo Nelle scommesse Insieme a Sanchez Se avete Questi due Attaccanti Secondo me Ci sa Ci sa Da schierarli Arnautovic Soprattutto perché Dovrebbe giocare Titolare Sanchez Anche da subentrato Ultimamente Sta facendo Comunque bene Carlos Augusto Bissec E Darmian Sono altri nomi Non dati titolari Ma che potete Lanciare nella mischia E Con copertura Chiaramente Con copertura Ok Perché non sappiamo Magari il minutaggio Fratesi E in dubbio Vediamo un po' Diciamo Cosa dicono Contratture muscolari In dubbio Diciamo che Come indice Può avere Un 7.2 Perché Comunque Dovete Essere Coperti Ok Perché comunque Già si sa Che ha un po' Un acciacco Quindi potrebbe Essere Diciamo Messo a riposo Diciamo così Va bene Comunque Abbastanza semplice Ragazzi Genoa Da evitare Come la peste Poi magari Fanno la grande prestazione Come all'andata All'andata Non è andata Male Assolutamente Al Genoa Però ecco Diciamo che Sulla carta L'Inter per ora È una Trittura Squadra Magina Pundi Magina Gol Insomma È devastante Devastante Come un po' Il Napoli Dell'anno scorso Praticamente No? Avevamo fatto già Questa lettura Mesi e mesi fa Detto Cucciolo ragazzi Vi ricordo Come detto Di lasciare un bel like Di scrivervi al torneo Su l'area Survivor Social Vi lascio Come detto Il link In descrizione Mi raccomando Scrivete bene Il nome del torneo E la parola d'ordine Quindi Vi aspetto Numerosi Per giocare Da questa giornata Vi ricordo Entro domani E che dire Buona fortuna Ovviamente Per questa 27esima giornata E spero Ci potremo portare A casa Un bel po' Di vittorie Va bene Dai Buona 27esima giornata A tutti E viva sempre Il Fanta Ciao